È Flavia Cocca che firma le scene e i costumi per lo spettacolo Ombre, scritto da Gaetano Aronica e Adriana Sabatini. Con Ombre in autunno si riaprirà il sipario del teatro Pirandello di Agrigento. È un thriller dell'anima che vede nella Sicilia una metafora, racconta di destini e di scontri generazionali, ma non solo. Uno spettacolo che nasce dalla collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, dove Flavia Cocca insegna scenografia e il teatro Pirandello. La clip di lancio ci trasporta attraverso il mondo digitale nella dimensione poetica e teatrale. L'opportunità di essere la scenografa e la costumista di questo meraviglioso spettacolo, che mi consente anche di collaborare con dei professionisti, mi è stata data dal direttore dell'Accademia di Belle Arti Alfredo Prado, che ha creduto in me e ha deciso di darmi questa grande responsabilità. Inoltre, una delle caratteristiche fondamentali è quella che prevede la collaborazione dei ragazzi, ovvero gli allievi di scenografia dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento, che potranno interfacciarsi con l'ambito teatrale e potranno sperimentare a 360 gradi la progettazione scenografica. È stata una sfida molto difficile, perché elaborare visivamente un'idea o qualcosa che non è tua ed è di qualcun altro è sicuramente un'impresa molto difficile, ma mediante studi, attraverso reference, siamo riusciti a trovare una soluzione che rendesse giustizia al testo. Il testo è un testo commovente, è un testo avvincente e coinvolge emotivamente lo spettatore. La prima volta che l'ho letto mi sono commossa e sono riuscita a lavorare con estrema serietà, ma anche con il cuore. Un talento tutto made in Sicily, quello di Flavia. 27 anni, nissena, studiato a Catania e dopo aver fatto esperienze in lungo e largo per l'Italia, vanta collaborazioni prestigiose che ha conquistato grazie al suo talento, alla professionalità, all'estro creativo, al perfezionismo e all'attenzione per i dettagli. Tutti i professionisti che lavorano all'interno di questo spettacolo sono siciliani, quindi questo è un messaggio molto importante. Per fare arte, per fare cultura non è necessario andare fuori, si può lavorare, bisogna avere passione, bisogna avere, in un certo senso bisogna anche avere pazienza, perché bisogna avere pazienza, ma bisogna avere speranza. In ogni caso la mia produzione artistica vede tanti sacrifici, il sacrificio è la parola chiave di tutto questo mondo. Definisce il suo un percorso di arte etica, che parte dalla ricerca e la scelta dei materiali e che sapientemente si intreccia con le esigenze di scena. In ogni mio lavoro cerco di mettere me stessa, cerco di fare dei riferimenti anche di estrema attualità, utilizzando dei materiali di riuso, cercando appunto di affrontare, come dicevo, temi di estrema attualità, definendo quasi la mia arte un'arte etica, un'arte che unisce l'estetica all'etica, quindi ricorrendo anche all'utilizzo spesso e volentieri di materiali di riuso, materiali come la carta, eccetera. Grazie.